Sicuramente il progetto che abbiamo fatto a Pesaro, laboratorio politico partito quattro anni A, fa ha funzionato. Forse è giusto riproporlo anche a livello regionale, è fondamentale che si porti avanti forse la stessa strategia. Abbiamo visto che dove la sinistra si unisce vince. Ricordo a tutti che lo scorso anno, quindi anticipatamente, avevo detto se andiamo tutti uniti vinceremo facilmente e così è stato. Quindi è fondamentale anche fare una strategia per la regione e portare avanti sicuramente lo stesso progetto che è partito da Pesaro. Pesaro ha un po' anticipato anche il panorama nazionale quando lei è entrata all'interno della Giunta Ricci. Inizialmente le critiche da parte del Movimento e poi in realtà tutti al seguito di Pesaro. A questo punto la regione diventa un test per ribadire magari l'importanza di quella che fu, quell'alleanza. Sì esatto, sicuramente ancora qualcuno fa fatica a digerire quello che abbiamo fatto a Pesaro, però ci siamo riusciti, abbiamo portato degli obiettivi nella nostra città, concretamente abbiamo aiutato i cittadini nel nostro territorio e i cittadini hanno risposto. Perché nel momento in cui noi ci siamo messi nella coalizione per candidato sindaco Andrea Biancani, l'abbiamo comunque aiutato, supportato, abbiamo spinto, abbiamo fatto squadra con tutta la parte del centro-sinistra e questo è stato un grande risultato perché i cittadini ci hanno premiato e hanno voluto che comunque una rappresentanza continuasse sia all'interno del Consiglio Comunale e a me mi ritrovate di nuovo in Giunta. Il suo rientro in Giunta, comunque sia dei ruoli che già aveva avuto, le dimostrano anche la fiducia del nuovo sindaco nel voler dare continuità a un progetto? Sì, con il sindaco Andrea Biancani già avevamo lavorato anche con l'università, mi aveva supportato quando lui era consigliere regionale, quindi già dei progetti insieme avevamo fatto e poi comunque anche lui dalla spinta del sindaco Matteo Ricci aveva visto che comunque si era lavorato bene insieme, c'era diciamo un rapporto di fiducia e soprattutto un rapporto concreto, cosa che vedo molto con Andrea, il quale mi trovo molto bene e speriamo di continuare nello stesso modo. Grazie. 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 Grazie.